buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video vi spiego praticamente alcune cose che sono successe siccome da tanto tempo che non faccio giustamente video beh il problema è che siccome sono stato un pochettino stonato siccome ho pure i muratori qui in casa per ora non ci sono capiamoci e siccome pure ho cambiato telefono anzi scusatemi se non fatto come fanno gli altri youtube che fanno tipo come si dice l'inbox però vi volevo ricordare solamente una piccola cosa non mi ricordo se stasera o giorno 29 non mi ricordo preciso devo andare a guardare mi dovrebbe arrivare un piccolo palco facciamo una cosa se questo video arriva a non voglio esagerare no a like visualizzazione se questo video entro il giorno 29 che mi arriva a pacco arriva fino a 10 visualizzazione faremo l'inbox insieme però ricordate una cosa se lo potete fare lasciate qualche commento se mi ricordate pure l'ho fatto qualche volta e ve l'ho detto e non mi avete lasciato un commento niente qualche like solamente quindi vi prego se questo video arriva a 12 visualizzazione o 10 o 12 quello che è facciamo l'inbox perché mi dovrebbe arrivare penso non sono sicuro se stasera o giorno 29 come detto prima mi dovrebbe arrivare la playstation 4 e anzi fatemi per favore un favore se qualcuno di voi che mi segue ce l'ha pure potete per favore dimmi come funziona perché io non l'ho avuto mai quindi se qualcuno gentilmente che ce l'ha mi potrebbe dire che so come funziona se ci di memorizzare qualche cosa non lo so ditemi tutto quello che voi che sapete ok vi ringrazio lasciate qualche like e se arriva a 12 visualizzazione faremo l'inbox se non arriva facciamo solamente qualche video che ci gioco quindi questo è tutto ah e un'altra cosa se vi ricordate a vincenzo aiello un amico mio per ora non so come dirvelo non ci sarà siccome è andato da sua madre per ora non ci sarà forse dovrebbe venire verso in agosto credo non lo so di preciso ok allora ci vediamo o stasera o giorno 29 per sicurezza vi farò sapere stasera ok quindi grazie a tutti e arrivederci a tutti